Vice Presidente Bolzonello, ci sono delle novità importanti dalla Giunta per quanto riguarda il Fondo Rotazione Iniziative Economiche? Sì, sono importanti per quelle aziende che ritengono di dover andare a rinegoziare gli affidamenti, le linee di credito che hanno garantite dal Fondo di Rotazione e questo avviene perché le commissioni che sono a carico delle piccole imprese, 250 euro, delle medie imprese 500 euro, delle grandi imprese 750 euro per questo tipo di operazioni, per queste rinegoziazioni sono effettivamente molto pesanti. Abbiamo ritenuto che per le aziende che rimodulano, che quasi sempre sono aziende che hanno alcuni problemi e che quindi devono rimettere mano alla parte finanziaria visto che il carico per l'istruttoria che il FRIE fa per queste operazioni è molto modesto, abbiamo ritenuto di poterle di fatto azzerare quindi è un aiuto a quelle imprese che hanno qualche difficoltà in più. Grazie.